allora benvenuti a questo nuovo video era un po in pausa da qualche settimana insomma da nuove pubblicazioni però questo video ci teneva a farlo anche con una certa urgenza perché uscita la nuova versione di dorico 5 e di dorico ovvero dorico 5 la cosa mi entusiasma sempre molto come sapete io seguo molto la steinberg e la seguo con molta gioia perché soprattutto negli ultimi anni sia con le release di cubase che con quelle di dorico stanno veramente aggiungendo dei piccoli dettagli piccoli grandi dettagli preziosi i loro software e questo ci rende rende la nostra la vita di noi compositori molto più semplice insomma e questo mi entusiasma molto quindi quando io lavoro lavoro bene e lavoro con rapidità grazie a un software questo mi fa concentrare sulla musica e senza che perda tempo con i dettagli tecnologici morta e for music è il motto e vi assicuro che è veramente vero insomma soprattutto in questa ultima ultimi release le ultime tre o quattro versioni di dorico hanno aggiunto di volta in volta dei delle cose che hanno veramente reso il workflow il modo di lavorare totalmente più rapido intuitivo veramente così non non si hanno distrazioni quando si lavora quando si compone si scrive andiamo a vedere un primo dettaglio una delle prime cose che hanno messo in questa nuova versione d'orico mi piace molto apriamo un orchestra sempre l'orchestra classica e hanno aggiunto nel mixer mixer f3 sta caricando i suoni mixer f3 qui in alto abbiamo un palcoscenico dal vivo dove cliccando ci fa vedere come sono posizionati nello spazio gli strumenti ovvero c'è una nuova gestione della spazialità del suono che non è il semplice pump pot destra o sinistra ma per creare un realismo maggiore del nell'ascolto degli strumenti che poi andiamo a posizionare c'è questa visione del palco che può andare anche essere modificata chiaramente a nostro piacere possiamo avvicinare contrarre gli strumenti anche tutti possiamo distanziarli sempre di più questo influenza come il suono viene percepito abbiamo tantissimi preset di palcoscenici delle quali scegliere come posizionamento proprio possiamo crearne dei nostri possiamo salvarli da cui ho spostato ad esempio le trombe le voglio qui e timpane le voglio il centro può salvare questo nuovo preset così come così come voglio insomma abbiamo anche una spazializzazione quindi una gestione del reverbero diverso in via vicino in via lontano e poi il panorama sinistra a destra che possiamo andare a diminuire o ad aumentare e questo ripeto cambia il realismo con il quale ascoltiamo quello che andiamo a registrare facciamo un esempio per qualcosa di reale ovvero prendiamo un quartetto anzi in questo caso un quintetto di archi non è una mia composizione ma è un arrangiamento che ho fatto di un di una suite di pieno donaggio da dress to kill invece dicendo se io vado ad aprire il mixer in questo momento vedo che il posizionamento del palcoscenico è tutto al centro perché stava fatto una versione vecchia questo quartetto e allora io potrei andare a spostare tutto come voglio e mi cambia il suono di quello che ho sotto mano la cosa interessante che io posso andare nel menu riproduzione scegliere il modello di palcoscenico e mettere chamber strings e se vedete ecco già mi ha posizionato in una maniera molto più coerente quello che ho a disposizione poi in questo particolare caso se dovessi scegliere gestisco così sposterei la viola qui il violoncello qui e agli estremi i due violini ma questo perché perché conosco il brano e so che ci sono parecchi scambi interessanti tra il primo e il secondo violino e tra la viola e il violoncello ci sono delle delle frasi ad esempio diventa interessante gestire in questo in questa maniera il palcoscenico nella stessa maniera io posso andare a gestire il reverbero ovvero ho dei modelli sempre di produzione per modello spaziale si chiama ballroom church concert hall recording studio mettiamo ad esempio un scoring stage e come influenza il suono questo sempre andando in mixer la versione grande però io vedo che ho l'insert e nell'insert ho il reverbero e reverbero sono quelli di reverence che insomma conosciamo da cubase e vediamo che viene impostato un reverbero a convoluzione per rendere tutto molto più realistico che è l'osangelo scoring stage se io vado a spostare il modello spaziale metto un church vediamo che succede con il reverbero vedete mi ha cambiato il reverbero qua english chapel e mi cambia chiaramente il suono della performance è un sistema molto pratico molto logico per gestire la spazialità del suono per rendere tutto molto più realistico adesso questo è un semplice quartetto d'arte una cosa anche molto molto semplice ma andiamo aprire dunque ho preparato un profondo rosso un arrangiamento che ho fatto io per un concerto abbiamo fatto qualche anno fa al reggio di torino l'ultimo concetto importante pre pandemia pochi mesi prima che finissimo in lockdown quindi siamo a fine 2019 allora impostiamo il modello per la riproduzione mettiamo questo qui e se io vado a vedere vado a esplorare mi accorgo che il modello per le riproduzioni in questo caso non c'è cioè se abbiamo tutti gli strumenti di orchestra precisamente al centro cosa faccio vado a cercare un modello di riproduzione scusate un modello di palcoscenico e metto orchestra io subito vado a verificare che tutta la specialità dell'orchestra vedete mi è stata già impostata automaticamente poi posso andare a modificare quello che voglio posso salvare questo modello di palcoscenico ma automaticamente ci viene impostato tutto poi vedete le trombe sono tutte insieme perché sullo spartito sono diverse trombe se vedete degli strumenti uno sopra l'altro perché magari c'è più di un di un clarinetto ad esempio in questo caso e il suono, la specialità mi viene cambiata e gestita di conseguenza quindi è un sistema molto comune una delle prime cose che ho notato insomma interessanti questa nuova versione di Dorico andiamo a vedere anche altri rapidamente altri novità un'altra che mi ha molto affascinato è che hanno aggiunto lo scrub cliccando qui in alto sull'alto parlantino abbiamo la riproduzione di scrubbing quindi io spostandomi voglio insistere su un accordo non so perché voglio ascoltare direttamente quello mi sposto sullo spartito e ascolto quello che voglio indicare sullo spartito questa è una cosa molto interessante anche per la verticalità penso sia chiaro l'utilità di questa cosa soprattutto quando si lavora con larghi ensemble è una cosa ottimale io voglio sentire la verticalità di questa cosa qua senza che vado qua seleziono tutto o faccio play insomma basta che vado qui insomma è una cosa comodissima che ci fa risparmiare tantissimo tempo la bellezza ripeto di tutte le piccole innovazioni che ci sono da versione a versione di Dorico e che sono tutte innanzitutto anche suggerimenti che nei vari forum della Steinberg vengono ascoltate insomma richieste dei compositori dei vari utenti ma in generale è tutto impostato affinché il lavoro sia rapido e piacevole insomma allora vi rimostro un secondo lo scrubbing perché mi sono reso conto che dalla registrazione non si vedeva il pulsone allora cliccando sul l'altoparlante qua in alto diventa verde e poi posizionandomi sulle varie note mi fa sentire nota per nota quello che dovrebbe essere e quindi per quello che vi ho detto prima insomma è molto utile a proposito poi di tecniche di riproduzione se noi andiamo su libreria opzioni di riproduzione nella sezione umanizzazione c'è questa opzione nuova che usa l'enfasi del profilo di intonazione dove si va a imitare un pochino quello che tutti noi musicisti facciamo quando suoniamo soprattutto uno strumento che non è come il pianoforte quindi dove l'intonazione non è mai precisa come quella del computer c'è sempre una piccola variabile insomma se noi applichiamo perché di default non è applicato sui progetti preesistenti in questo caso come questo qua sui progetti nuovi dovrebbe essere attivato già a priori applicandolo io ho delle micro variazioni all'orecchio non sono immediatamente percepibili ma queste micro variazioni di tono ci sono in realtà sono veramente minimi variazioni di intonazione che ci sono che vengono fatte con un intervento minimo del pitch band se poi noi andiamo a aprire quel file risultante con Cubase di questa cosa ce ne potremo anche accorgere e questo rende più verisimile tutto quello che è l'esecuzione del brano perché l'intonazione umana dell'esecutore non è quella del computer andiamo a vedere un'altra chiudiamo questa partitura apriamo una partitura magari Jets un trio Jets anzi dove c'è una batteria adesso non mi interessa il discorso del genere ho preso un Ensemble a priori dove so che c'è la batteria e nel drum set se noi mettiamo come opzione di riproduzione vediamo qua come modello di riproduzione questo qua vedete avete diversi su uno trovate il Gaze Gaze non è altro che Groove Agent che è quel software virtual instrument di batteria molto buona che è presente insomma da tanto su Cubase ma in in Dorico non era presente adesso io mettendo le note posso utilizzare sto mettendo le note a caso posso utilizzare direttamente Groove Agent come strumento di output se io vado in play su questo obbroglio che ho fatto quello che ascoltate insomma si capisce bene da quello che ho suonato ma in realtà è Groove Agent allora andiamo ad aprirlo andiamo nella riproduzione Gram Set come vedete qua c'è Groove Agent se io vado ad aprire ci troviamo di fronte a questo che i diversi Drum Set sono molto buoni e la cosa interessante sono vari Drum Set che possiamo andare a utilizzare eccetera eccetera ma per la notazione la cosa che mi interessa mi ha insomma affascinato particolarmente è che con Groove Agent abbiamo tutta una serie di pattern e che come sapete se utilizzate questo programma anche su Cubase questi pattern sono drag and drop quindi io posso prenderli trascinarli sul sul mio spartito mettiamo anche anche questo e se io vado a vedere poi se non li ho messi nemmeno in fila nemmeno in ordine insomma ma se io vado a vedere quello che ho nella scrittura lasciando insomma questa prima battuta che ho fatto li abbiamo qua e possiamo metterli in play e mi fa una trascrizione che è abbastanza accurata di quello che di quello che ho come come Groove adesso qua non l'avevo messo in linea con la battuta ok quindi posso andare per alcuni lavori se mi serve una partitura insomma già pronta per batteria posso andare a sfruttare questi groove vedete qua ho un classic rock e i vari fill e se le posso trascinarli anche in partitura direttamente qua facciamo una prova sinceramente non ho ancora sperimentato questa prova vediamo se posso trascinare i groove direttamente sulla partitura invece che sul allora vediamo ci sta provando ah no me lo mette come se fosse un'altra un'altra cosa no meglio trascinarli come se fosse un'altra partitura meglio trascinarli direttamente nella la visualizzazione midi vediamo se da qua me lo consente ad esempio ci mettiamo ci mettiamo qua battuta 15 e come vi ho fatto vedere prima adesso questo è un 12 ottavi cerchiamo qualcos'altro in quattro quarti abbiamo tutela la divisione loose rock ok ok la mettiamo qua battuta 15 battuta 15 vediamo cosa abbiamo cosa ci risulta questo qua una molto interessante è quella che riguarda l'utilizzo del mouse per spostare le note come penso sappiate da diversi video che ho fatto in passato non solo su Dory che utilizzo principalmente la tastiera del computer per inserire le note e il mouse che ho un mouse da gaming vecchio mouse da gaming trovate una recensione un altro video dove ho impostato vari pulsanti per lavorare rapidamente e la tastiera odla che è una superficie di input apposita per programmi di notazione musicale anche lì andate a vedere la recensione la novità di questa versione di Dorico è che con il mouse posso spostare tranquillamente le note come voglio in alto e in basso aspettate cazzo un pochino il volume del mixer ok e non solo in alto in basso ma posso spostarle direttamente anche in un altro in un altro rigo oppure a destra a sinistra ad esempio ok tutti in alto tutti in basso oppure posso spostare una nota di un poco sulla griglia e mi ritorna cambiato insomma così come voglio a seconda dell'impostazione che ho sulla griglia qua la stessa cosa come vedete è un metodo di lavoro che è molto molto rapido mi consente di lavorare rapidamente posso anche effettuare i passaggi di tranquillamente di ottava così come voglio questo mi fa risparmiare tempo e ecco ripeto la logica di dorico è sempre comunque quella il risparmio del tempo che possiamo poi dedicare invece alla musica interessante è anche la possibilità di creare strumenti andiamo qua quando io scelgo uno strumento da utilizzare o da inserire abbiamo tutta la nostra schiera di strumenti possibili immaginabili insomma come nelle altre versioni che è disponibile possiamo però andare a creare degli strumenti degli strumenti da zero se questo se questo ci occorre allora vediamo come fare basta andare su libreria strumenti e qui abbiamo tutti gli strumenti possibili con tutte le impostazioni che abbiamo vedete potete cambiare l'estensione standard l'estensione avanzata insomma la trasposizione tutto quello che volete diciamo che vogliamo creare un qualcosa di diverso mi metto su una chitarra elettrica ci chiamo la chitarra elettrica standard leader tuning nuovo strumento dalla selezione e ho elettrica copy quindi una nuova chitarra fatta da zero cosa possiamo andare a fare ad esempio modificare le corde e le accordature posso scegliere ad esempio questa corda cosa che tipo di intornazione ha posso scegliere l'accordatura c'è un accordatura aperta in questo caso in sol vedete posso scegliere la corda a vuoto che nota che nota è posso creare veramente cosa assurda posso andare a inserire corde voglio una serie di corde all'inizio qua dove c'è dove sono accordate come corda a vuoto con un si bemolle insomma scusare con un do bemolle quindi un si naturale se voglio posso farlo posso aggiungere quante ne voglio e dando ok poi ho questo strumento a disposizione da utilizzare adesso questa è una cosa molto estrema però chi si occupa di composizione e non ha tutta la variabilità che necessita perché utilizza strumenti particolari perché la composizione è anche quello con questa versione d'orico 5 può aggiungere questa possibilità sempre a proposito di personalizzazione una cosa interessante è che possiamo cambiare l'altezza del middle C cioè del do centrale vediamo come si fa e poi vi spiego perché si va su preferenze generali e qua abbiamo do centrale do 3 do 4 e do 5 possiamo scegliere questa cosa in maniera molto rapida perché avviene questa cosa qui perché se noi utilizziamo library esterne ogni library di VST ha una sua opinione non so perché su quale è il do centrale e quindi stabilire qual è il do centrale per il nostro progetto ci consente poi di utilizzare l'expression map i control change i case switches scusate non i control change in maniera ottimale di dire no il do centrale è questo qui quindi tutti i case switches che va a utilizzare nella mappatura dei cambi di articolazioni devono essere corretti perché altrimenti vado a premere un fa diesis perché mi aspetto un o impostare un fa diesis perché mi aspetto un pizzicato ma quella library il do centrale è spostato quindi il fa diesis sarà spostato anche lui di un'ottava sopra o sotto insomma spero che questo discorso non sia troppo confuso ma se sapete di cosa sto parlando se avete questo problema per voi sarà chiarissimo in conclusione vabbè chiaramente vi linko tutto una cosa interessante che è molto molto interessante innanzitutto consiglio a tutti di provare il software perché c'è la versione completa che potete provare per 30 giorni quindi insomma in un mese avete modo di avere un insight di quello che è il software le alternative sono del quale stiamo parlando chiaramente Dorico Pro 5 è la versione completa le alternative sono Dorico Element 5 che ha delle piccole modifiche insomma se andiamo su comparison qua vediamo quali sono le differenze tra Dorico Elements e Dorico Pro 5 nel senso vedete voi che tipo di utilizzo ne fate per alcuni potrebbe andare bene anche Dorico Elements che è disponibile solo a 99 99 euro non è escluso che alcuni di voi possano utilizzare anche Dorico SE 5 e Dorico for iPad che sono dei software che sono gratuiti cioè lo vedete qui e li potete scaricare gratuitamente free e free ci sono i dettagli chiaramente da consultare la cosa interessante è che comunque vi danno l'opportunità di provare il sistema e oltretutto la versione nuova di Dorico SE che ripeto è totalmente gratuita se prima aveva un limite di due strumenti quindi potete mettere un flauto un pianoforte una batteria un basso insomma per provare oppure una linea melodica se uno vuole fare degli score melodia e accordi ad esempio adesso in questa versione ripeto totalmente gratuita basta solo registrarsi potete lavorare con ben 5 strumenti scusate 8 strumenti quindi è eccezionale potete esportare i pdf mp3 e tutto quello che volete quindi consiglio sta diventando veramente no in realtà lo è diventato lo standard totale per i professionisti ha superato di gran lunga finale Sibelius e tutti quanti andate a vedere anche le recensioni passate delle diverse edizioni di Dorico per questa non ho parlato di tutte le funzioni perché alcune funzioni si sono accumulate nelle varie edizioni quindi ho parlato solo delle novità di Dorico 5 in questo video ah scusate un'altra cosa sembra Steve Jobs one more thing una cosa che è stata aggiunta sono diversi font cioè io nei caratteri musicali che posso andare a scegliere allora vi metto qua su scrittura caratteri musicali posso scegliere automaticamente una serie di caratteri che mi vengono cambiati totalmente in automatico ne sono molti molti di più che in passato sono molto belli da vedersi perché una delle prime cose che sono state curate da tutto il team Dorico sono sono i font e la leggibilità sono molto leggibili ci sono delle cose simili al real book per chi è abituato a leggere quel tipo di partiture io li trovo molto belli e gratificanti da da stampare ripeto come ho detto in altre recensioni io con Dorico ho fatto ho realizzato degli score che sono stati accettati dall'edizione universal insomma che sono le più importanti edizioni probabilmente al mondo di musica classica date un'occhiata a Dorico trovate sul canale youtube di Dorico della Steinberg tutta un'altra serie di video molto più approfonditi di quelli che ho fatto io dove si va nei dettagli totalmente chiaramente anche dal lab principale di Dorico abbiamo tutta una serie di possibilità di vedere varie funzioni e guide tutto quello che volete insomma demo e cose varie iscrivetevi al canale di youtube della Steinberg perché trovate sempre un sacco di novità un sacco di tutorial e video anche che sono aggiornati con una certa frequenza c'è poi un canale non di Steinberg ma di Dorico e se guardate i video vengono aggiornati molto spesso con tutta una serie di funzioni e di tutorial per approfondire totalmente le funzioni di Dorico quindi sono corsi e tutti gli effetti gratuiti che riguardano non solo l'engraving ma anche specifici generi musicali chiaramente in Dorico abbiamo Helion SE quindi abbiamo campioni in quantità andate ripeto iscrivervi e dare un'occhiata ai video di Dorico se volete il mio canale è sempre quello youtube.com slash christiansensin dove trovate altre recensioni altre novità fatemi sapere cosa ne pensate come vi trovate e se avete delle domande su questa o altre versioni poi vi linko il sito di Steinberg con l'accesso a Dorico direttamente ciao a tutti